Il problema del sovraffollamento delle carceri in tutta Italia sono più di 1600 le persone che oggi aderiscono allo sciopero della fame e della sete promosso da Marco Pannella. Molte le adesioni anche in Friuli Venezia Giulia, tra gli altri a fare lo sciopero della fame c'è anche Enrico Sbriglia, direttore del carcere triestino del Coroneo e segretario del sindacato dei direttori penitenziari. A Pordenone stamane il radicale Stefano Santarossa e il consigliere regionale dell'Italia dei Valori Alessandro Corazza hanno visitato il carcere cittadino. Il sovraffollamento, hanno detto in una conferenza stampa, è il problema che più affligge i reclusi. Nel penitenziario pordenonese ci sono 78 detenuti, mentre la capienza massima nelle celle è di 52 carcerati. Tra i detenuti 34 stanno scontando pene definitive, mentre 25 sono in attesa del giudizio di primo grado, 34 sono gli stranieri reclusi. A subire i disagi del sovraffollamento sono anche i 40 agenti penitenziari in servizio a Pordenone. I radicali, ha ricordato Santarossa, per risolvere la questione chiedono una amnistia.